In una missiva protocollata al Comune di Perdifumo il 21 aprile 2020, i consiglieri comunali d'opposizione Francesco Pecora, Giuseppe Coccorullo e Nazario Matarazzo hanno comunicato al Sindaco e al Segretario Comunale di Perdifumo di non partecipare al Consiglio Comunale del 23 aprile 2020 perché è convocato in violazione della normativa emergenziale relativa al Covid-19 di cui agli articoli 73 Decreto Legge numero 18 2020,1 di PCM 10 aprile. Poi aggiungono il numero e la complessità degli argomenti previsti nell'ordine del giorno uniti alla conformazione, dimensione e dotazione dell'aula consigliare non consentono il rispetto delle regole previste dalla suddetta normativa sanitaria di emergenza. Gli stessi consiglieri di minoranza fanno presente che nessun argomento di quelli previsti in trattazione riveste i caratteri dell'urgenza in quanto gli stessi argomenti di bilancio pur sottoposti a termine sono stati rinviati il 31 maggio prossimo venturo. Pertanto non vi è alcuna necessità nelle condizioni date di tenere il Consiglio Comunale. Infine gli stessi consiglieri di minoranza chiedono di trasmettere la nota inviata al Sindaco, anche a tutti i consiglieri comunali.